Per una comunità il piano regolatore generale della città rappresenta la direttrice, la strada che si vuole percorrere dimostra che visione e che programmazione della città futura che i governanti in carica hanno in mente di sviluppare. Il piano regolatore è un atto importante per un'amministrazione, forse il più importante che si può produrre e che incide fortemente sul tessuto cittadino, sullo sviluppo, sulla crescita economica e sociale. Ecco perché quando si tocca questo tasto i fili si scoprono e gli animi si scaldano per le parti politiche perché la posta in gioco è pesante e da questa cruna d'ago così importante presto sarà chiamata anche l'amministrazione seria a passare che nel primo mandato l'aveva in realtà sfangata e non era stata in grado di produrre a fine corsa un documento condiviso. Ma ormai i tempi sono maturi anche sulla stampa, paiono i primi flash sull'argomento con indiscrezioni, lanci in avanti, fughe di notizie più o meno confermate. Palazzetto nuovo, zona di chiaruccia, viabilità verso nord, direzione Pesaro, stadio nuovo con annessi e connessi. Il bubone poi della zona dello zuccherificio dove è stata anche interpellata la cittadinanza ma del quale che sia il destino di quell'area ancora nessuno lo sa. Di certo c'è che al momento è un'altra pessima cartolina da Fano perché arriva da sud ma che certamente sarà oggetto del nuovo piano regolatore. Tanta carne al fuoco insomma che soprattutto le opposizioni man mano che si avvicina la scadenza vorrebbero conoscere come la Lega appunto che intercettate alcune indiscrezioni su alcune aree e saputo che una bozza del piano regolatore prossimo futuro è stata mostrata ai consiglieri di maggioranza nei giorni scorsi ha voluto capirci qualcosa e hanno fatto un accesso agli atti ma senza ricavarne un granché. In una riunione che è legittima ci mancherebbe altro la maggioranza deve pianificare e deve farlo sicuramente senza far sapere cosa vuol fare la minoranza ma sta qui proprio il punto. Si sono visti e gli è stato fatto vedere e hanno dibattuto su questa bozza su questo canovaccio di piano regolatore e parrebbe anche che per motivi che per noi sono ignoti solo per qualche virgola non gli sia stato consegnato perché c'era proprio l'idea di renderlo pubblico quindi alcuni consiglieri comunali sanno di che cosa si sta parlando sui giornali e qual è l'idea che l'amministrazione ha della città. Alcuni consiglieri i più sfortunati, quelli di minoranza purtroppo non sono messi nelle condizioni di ricevere gli stessi documenti. Ci sono dei punti che sono trappelati che eventualmente non vi piacciono, non vi stanno bene? Bisognerà vedere poi il progetto urbanistico di utilizzo del suolo pubblico perché se noi vogliamo fare un fantomatico PRG che poi non è un PRG ma è una maxi variante a firma seri senza gravare il carico urbanistico della nostra città significa che quella superficie commerciale, sportiva che io vada a realizzare in una zona la devo togliere da un'altra parte e noi vorremmo capire dove veramente andranno a parare per riuscire a fare una cosa del genere senza, e noi di questo ci auguriamo, che vengano tolti aree ad esempio commerciali dai terreni pubblici ma siamo sicuri che questo non accadrà mai, dai terreni comunali per darli ai terreni privati così aprendo alla speculazione in modo veramente importante.